C'è una canzone miravigliosa che stava in un film che si chiama The Mission che è una sorta di quasi una, non so, una preghiera, un sogno, direi un sogno, ok ecco un sogno, il testo è in inglese ma è bellissimo, un sogno in cui prima o poi tutti quanti, ognuno conoscendo chi è, possa mettersi in relazione con l'altro e prenderci mano per mano e veramente rendere sempre più bello tutto questo che ci è stato dato, è un sogno, è un utopia si dice che l'utopia è quella cosa che sta lì, tu la vedi, fai due passi e lei si allontana di altri due passi, ne fai altri due e lei si allontana ancora, allora dici, ok, allora che cosa serve l'utopia, invece l'utopia serve perché ti serve a camminare, è forse del quell'utopia abbiamo tutti di nuovo bisogno visto che c'è troppa realtà, siamo immersi in troppa realtà che poi non è neanche la realtà perché io vedo una miniera di bellezza incredibile ogni sera, ogni viaggio che faccio, le persone che incontro perché fuori da quelle armature c'è sempre quel nocciolo che ci rende tutti uguali e tutti parte di questa cosa meravigliosa che voi avete davanti agli occhi tutti i giorni e quindi è lì che di nuovo torniamo quando vibriamo tutti insieme in un concerto, si chiama Eros Montoros, una rosa tra le spine. grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti